Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Noterai, guardando il video, le caratteristiche e le proprietà del numero 5. Papius non aggiunge altro. Si proseguirà con il libro a comprendere la costituzione e la teoria dei numeri.